Non sbagliate, spero che siete a colo, ho inserito dei testimoni, ma dice c'è nessun testo di me vostro, tipica frase che io non posso scappare di questo, non mi non c'è nessuno, hanno cercato come un tipico, che io ho apprezzato la brega che molti non hanno lezioni, che io scopero persone pericolose per l'occhio e l'altro, c'è nessuno, io diciamo sospetto, non spune che hanno una fantasia tale, questi soci che dopo sono violatori, c'è lì che batte la sozia, sa fettele, ficiorele, asciano, a colo, a colo, a spus, a spus, tu sei un provocatore, a come, con domenica, con brega, sono concelerato il bagliate, che io l'ho chiamato la Zesvina, riprendi un picco, che in cercano, io vi spun, spero che rimane dove vadano, io vi spun, c'è un facculto, io disse, io l'ho occupato, io non ho pretenze, io non ho mai apparato di posa, ma la stricata ce ne va, c'è la che riprende, io gli ho detto, vieni a colo, hai che cercano, vedo che lì siete tineretti a iccia, no? Tineretti sono vittorie in Moldova, stici hanno scoperto come, con questo, questo violento, che sicuro è, io non vorrei sentire, c'è niente, sicuro è, sono un sclavo di un partito, sono un politista, un violento orcum, un violento, no? Ecco, stici a faccia, è proprietà ieri, è proprietà ieri, a tineretti sono proprietate ieri, a senza legge, io non stio c'è niente, dar, hai cercato come mine, se mi soppone, come mine, in affare che solleo, come mine, che non so, niente, dar, domni e freste, scusate, io sono persona modesta, dar, in Romania, noi abbiamo, in visi, in poteriva corruzze, a livello dei notari, con la burcuresti, l'hanno chiamata mafia a traducere il loro, che era mentre una traducatore, che non la sava, non la sava se mi trese, noi amiamo in visi, io sono vivo, non mi ammi appusciata, con la come, non stio in Moldova, non mi è fricca, amo un pupillo di ortani, sozia sadus, non mi rimane alce, va decata, non mi è fricca, lascio, non mai ci va, e mi ha detto, c'è nessun testo di una vostra, c'è interesse avesse, io non voglio che spiegate, niente, c'è un leo, aizia in Moldova, mi implico, pur simpolo, non c'è voi, c'è t'azeni, mi implico, mi implico, e faccio, ce va a depine, no? Chi dopo? Probabile mi faccio un stato a sce, spero, vedo, resta la tocca a voi, probabilmente non mi interesse a asa, dai, io muo, muoro, come si spune, muoio, molto mi, c'è cupido il meo, si dice, vittà e t'attito il meo, ce l'ha fatuto, no? Credo che d'orizzaci voi a sce, ce va, no? Giazza, c'è i esti, che ne hanno comprato, la macchina, l'ha comprata, gasta, l'ha lasciata, la macchina, non mi interesse a asa, ha parato, e uno me la forà, c'è, asta, a verile, io ne conosco, gramada in Italia, vine a 4-17 di anni, iel, cacciato lì con mondo gancho, è importante, 3-17 di cinque, si dice, in certo se ha un problema, lasciate a vare, ho femmina, 3-17 di anni, non vengono a sce, nemmeno a sce, li ha 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 sce, no no, mi li ha sce, c'è l'altra, c'è l'altra, c'è l'altra, c'è l'altra, c'è l'altra, ma l'ecrano, l'iPhone, c'è avere, le prostiti, c'è l'altra, devono essere, no, alcuni, ha martorizzato, spero, che, credo che l'ha firmata, vaiate, o persona, ha cercato con me, se, credo che con molti di voi, sente, la degia, ho, ha gasito, un italiano, no, un italiano, un streen, che ha venito a iccia, che ha fatto la vita della Cinevà, che mi ha schivato, per uno che si implica di politica, peraltro che discuto con i tineri, invece, io discuto, io, sarei indicato, mi ti ha come, ma io ho due anni che discuto con i tineri, d'un esempio, hai un microfono, è forte, molto apprezzabile, dar trolleybus, vedo resch, trolleybus, bus, trolleybus, scusami, ma è molto dedicato a ruttiera, che gli esti a colo, cascicarmi in scatola, lo schio, come si può, dar trolleybus, sei straordinario, uno schio ce l'ha inventato, da molti due anni, che ha inventato, scauna, una in faccia la cella all'altra, ha fatto che c'è vado straordinario, e ce facciamo acià, ne vettiamo la faccia, i trolleybus, e ne viene tutti i ticchi, che non ne vettiamo, faccia con faccia, faccia con faccia, vorremmo, da tu gli esti fascisti, io sono comunista, hacià, discutiamo, possa vedere un po', se mi schiena pigna, io non so, io sono a partitico, discutiamo, hacià ne ha fatto, manuata, tre, molto tempo, in traselde, cinci minuti, da vorme in vorme, hacià costruita, non ama, spugna la domina, la colo, che ha re, frica, che gli furano, ce va, dom, ma duc, in Italia, alla rivedere, e da voi, azi, castigate, un Moldova, ma è buona, perché, ci ne va, spus, che, dacche io stio, opinia, tu sti opinia, no, dacche noi, non la spugniamo, uno con c'era l'altro, noi, ingusunarle, ad un leo, io, un leo tu, dacche io ti spugno, opinia a me, latine, c'è tu la mine, su tem, andi, bogati, n'imene, ha furato, uno la c'era l'altro, che non sente, con l'altra mine, si temano i bogati, perché io ti andate, un'idea latina, e tu mi hai dato, un'idea latina, ambia, verma, sei in salenza, no? Da, sì.